Ciao Auri, dove ti hai comprato? Tutti i negozi! Tanti, ma tanti, 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 squinti, ho fatto! Quindi, lascio anche a parcare, voglio appoggiare la terra che non trovo già più! Vado, 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 ragazzi, ragazzi! Voilà! E raccomando un nuovo video! Allora, ho fatto molti acquisti, come avete voluto vedere, però mi scocciavo di fare il solito video tipo Comprate questa maglietta, le due buste, quindi ho deciso di fare una sfilata perché sarà divertente Poi c'era anche la musichetta tipo... Quindi, ora andiamo alla sfilata! La toglia! Ho comprato questa magliettina della Nice Qua c'è 34, questa boccherellata è qua normale Quattro, le strisciette di lato, questo frontino con il fiocchetto E questa bellissima pochette, tutta bella combinata! Quindi, ora, cerco di mettere il cittadino dentro, e fino a una giravolta cambierò il look! Ooooooooooooh! Uera! Questa! Magliettina nera di Raman Love, del peperito bocchette e capello! Quindi, la cosa nuova è la maglia! Bye bye! Cappellino! Questa maglia è della P-Rex, tutta fatta così, fatta scambiata, gialla, fa fluorescente! E ora cambio il look però con il litino magico! Tac! Tadà! Allora, guardate, questa maglia che è troppo, troppo, troppo bella di unicorni! Sono miei unicorni, tutti unicorni! Allora, vuoi dire, tu, cioè tu sei tutto bianco, e io, cioè che torta pazza, tutti i colori! FANTASTICA! Questa maglia è FANTASTICA! Quindi, ciao! Allora, questi occhiali, bellissimi, che non mi alzo per vedere meglio, e questa maglia con questi gatti, che sono tutto questi gatti, guardatevi, sono troppo fashion! Con questa maglia con la spiagletta colorata, cambia i miei tempi della spiagletta colorata, e sotto porta la canottina in latino! Cioè, però se ve la voglia di mettere, non ti spiega! Quindi, questo era, vedo che sto combinando, un altro bellissimo look gattoso! Questo è il mio stitino della P-REX, che è nero, penso che ci mette una maglia di vari colori, che potrebbero essere dalla verde o tuxia, ma io ho deciso di vedere dalla verde! P-REX, che sono il genere di surgery molto più amico! E ora sono le gre aıs hinglamo per il gelo di soprattutto! Perfetto a casa della Katlanda Superfession. e per una persona che ama il lego come me non poteva mancare ovviamente la gonna che troppo carina troppo bella la amo la amo tantissimo troppo bella perché poi è super simpatica ho completato questo bellissimo pareo con tutte le moji fantastico ma dietro il pareo ovviamente sarà un costume ma che costume bellissimo troppo bello però la cosa più bella è il pareo e ora ce ne andiamo allora un altro pareo perché qui sto comprando un sacco di pareo questi qua con tutti i bufettini colorati bellissimi ma anche ora c'è una sorpresa quale sarà il costume lo scopriete fra 3 2 1 ci sono i fenicotteri 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 è fantastico che poi i parei mi riusciano a schianferdoso perché sono fenicotteri troppo belli quindi ragazzi questo era un altro pareo per un altro costume questo bellissimo capri costume faccio il costume guardate è molto carino con il laccetto è fatto di velo e qua praticamente ha gli ananas che forse si vedono forse no non si vedono comunque ha degli ananas però ovviamente ne ho preso un altro perché io non posso stare solo con uno sono gli altri che gli piacciono i copri costume quindi con una giro a volta mi cambierò ecco qua questo è l'altro copri costume questo qua è il più bello però perché hai fenicotteri ma stavolta si vedono che sono fenicotteri appunto poi costume fenicotteri copri costume fenicotteri questo è un bellissimo copri costume che mi piace tantissimo ora devo ballare di poco fa troppo caldo mi erano rimasti solo i pigiami con tutta la panciata accesa in tutta la gata io sento caldo non ce la faccio più sinceramente quindi erano rimasti solo i pigiami che ora li faccio vedere così appoggiamoli qua allora questa è il primo pigiama questa magliettina troppo carina esattata in zenith con il cactus e soprattutto c'è questo pantaloncino eccolo qua e questo è insieme vabbè fate finire che tipo me lo sono messo fuori uno questo è il secondo pigiama aspetta che pure caduto bene praticamente sì vabbè allora togliti questo pigiamino che ha la frutta summer e anche di là c'è lo stesso decorino con sotto il pantalone praticamente con tutti questi decori qua ve la voglio far chiedere così ecco qua il pantalone con tutta la frutta come si vede sono mozzolati quindi molto comodi quindi sono stanchissima quindi fate la rimasta così non è neanche cambiata ah non ti ho dimenticato una cosa questo qui della frutta e ti vediamo mai quindi ragazzi spero che questa sfilata vi sia piaciuta lasciate un like al mio canale e iscrivetevi un battono a tutti e al prossimo video ciao 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 ciao